Sono quasi tre anni che questa ciclabile è così. L'autore del cartello è anonimo, ma il messaggio è chiaro, perché se c'è una bicipolitana che da anni è considerata un fioro all'occhiello della mobilità peserese, ci sono anche tasselli mancanti che mutilano questa mobilità da troppo tempo. È il caso del tratto di pista ciclabile sul Foglia, compreso fra via Gradare e via Spoleto. Tratto interrotto da anni e non manca chi, a Rossini TV, segnala questo stallo che dura da tanto ed è pure destinato a durare, visto che non c'è ombra di lavoro in corso, per ripristinare l'interruzione che rende monco il tratto di ciclabile sul Foglia. Anzi, un cantiere c'è ed è quello del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume, il cui completamento diventa determinante per ripristinare anche la ciclabile in questione. Un cantiere che invade la pista e che è attualmente fermo dopo la posa del ponte in acciaio avvenuta in inverno. Nei giorni scorsi l'assessore con delega alle grandi opere Riccardo Pozzi ha annunciato un incontro con l'azienda costruttrice per richiarire i termini di ripartenza di una struttura che nel cronoprogramma iniziale doveva essere già completata, poi l'ipotesi è slittata a fine estate ed ora verosimilmente si conta di chiudere entro la fine del 2024. Mancano ancora le opere di completamento e raccordo con la ciclabile, sulla quale si proverà a consentire una riapertura entro l'estate almeno temporanea. Intanto, all'ingresso del sentiero, l'adautosì del Foglia che parte dal Ponte Vecchio, c'è un cartello che indica l'interruzione della ciclabile dopo 400 metri. Cartello sbiadito al punto il cui scolorimento misura il tempo di durata dell'interruzione. Dopo 400 metri bisogna deviare in via Spoleto per poi pedalare su via Milano e strade limitrofe. Idem da via Gradara, interruzione abbozzata con una transenna che non chiude il varco. Se lo si supera, si arriva alla chiusura e si deve fare retromarcia.